Pulmino dell'asilo distrutto dalle fiamme. Nella notte tra il 10 e l'11 ottobre, il pulmino dell'asilo nido Noi con i bambini di San Roberto è stato incendiato e completamente distrutto. Il progetto del nido, voluto fortemente dalla comunità e realizzato grazie ad un finanziamento dell'impresa sociale con i bambini, è stato progettato dalla cooperativa sociale Libero Nocera di Reggio Calabria come ente capofila di un parternariato che coinvolge anche l'associazione Espero. Il mezzo, acquistato due anni fa per garantire un servizio aggiuntivo, rappresentava una risorsa importante permettendo alle famiglie di usufruire dei servizi dell'asilo senza dover percorrere lunghe distanze. L'asilo nido, unico nel comprensorio, si era rivelato fondamentale per agevolare la vita quotidiana delle famiglie dei comuni di San Roberto, Fiumara, Melia e Campo Calabro. Il pomino è stato utilizzato fino alle 14 di ieri e l'incendio è divampato intorno a luna di notte. Il fatto, oltre a causare gravi danni materiali, ha causato e creato un notevole disagio per la comunità, interrompendo il servizio essenziale per i 26 bambini che ne usufruivano quotidianamente. Sono in corso di accertamento le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.